Ben ritrovati al NOTES di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Si rinnova l'appuntamento con la Proloco di Zero Branco e i deliziosi asparagi di Badoere IGP. A Zero Branco, infatti, dal 14 al 23 aprile, c'è la 26esima mostra dell'asparago di Badoere IGP. Presso la struttura di Via Tagliercio troverete appetitose specialità a base del germoglio di primavera. Per tutta la durata della manifestazione, possibilità di acquisto degli asparagi, filiera di lavorazione dell'asparago, divertimento e ballo con le migliori orchestre. Sabato 15 aprile, alle ore 15, si rinnova anche l'appuntamento con la biciclettata alla scoperta del territorio. Novità 2023, il laboratorio per fare un germoglio ci vuole un seme. Un'occasione unica per scoprire il magico mondo degli asparagi. Il programma completo della manifestazione sul sito prolocozerobranco.it Nel 1912, l'affondamento del Titanic. Uno spettro bianco nel buio della notte, l'impatto e l'avanzata incontenibile dell'acqua. In poche ore quello che si credeva un colosso inaffondabile si spaccò in due, inabissandosi per sempre sul fondo dell'oceano. Con esso crollò il mito dell'infallibilità del progresso e si infranse il sogno della belle époque. Le cabine erano divise in tre classi. Nella prima, la più lussuosa e il cui biglietto costava 4.350 dollari, ovvero 83.000 dollari di oggi, si accomodavano esponenti dell'aristocrazia e dell'alta borghesia dell'epoca. Nella seconda classe, al prezzo di 60 dollari, presero posto gli appartenenti alla classe media. L'ultima si riempì di emigranti con un biglietto da 32 dollari. Ogni difficoltà trascurata sarà un fantasma che più tardi disturba il tuo riposo. Friedrich Chopin La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire la fugassa veneta. Un dolce tipico della cucina casalinga del Veneto, in particolar modo delle province di Padova e Venezia. Come ogni dolce della tradizione, la sua origine è avvolta nel mistero. Su una cosa, però, tutti sono concordi. Era considerato il dolce dei poveri per via dei pochi ingredienti necessari per la preparazione. Alcuni sostengono che il merito dell'invenzione sia da attribuire a un fornaio trevigiano che, proprio durante il periodo pasquale, lavorò la pasta del pane con ingredienti inusuali come burro, uova e zucchero, ottenendo così una pasta soffice che regalava ai suoi clienti più fedeli per Pasqua. La fugassa è rappresentata persino nel battistero della Basilica di San Marco di Venezia, nel mosaico del XIV secolo, il banchetto di Erode. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.